L'obbedienza è meglio del sacrificio, re Sol ha abusato del suo rapporto con Dio, e ha commesso ripetuti errori, re Sol ha abusato del suo rapporto con Dio, e ha commesso ripetuti errori. Mentre doveva seguire le istruzioni di Dio ed essere benedetto, Sol scelse di compiacere se stesso e di disobbedire a Dio. Un esempio del fallimento di Sol divenne evidente quando rifiutò di distruggere i nemici di Dio come gli era stato ordinato. L'istruzione è dichiarata, Samuele disse anche a Sol, il Signore mi ha mandato per ungere voi re sul suo popolo. Sopra Israele, ora, dunque, ascoltate la voce delle parole del Signore. Così dice il Signore degli eserciti, punirò Amalek per quello che ha fatto a Israele, per l'agguato che gli ha teso durante il viaggio quando è salito da Egitto. Ora andate ad attaccare gli Amalekiti, e distruggete tutto quello che hanno, e non risparmiateli. Un Samuele 15, 1-3. Nel frattempo, Saulo agiva in contrasto con le istruzioni di Dio. Uccise alcuni nemici di Dio, ma risparmiò alcuni beni preziosi della terra per le sue ricchezze private. Razionalizzò anche che intendeva sacrificare a Dio i beni proibiti. Tuttavia, il profeta Samuele castigò il re Sole e disse, il Signore ha il piacere di ricevere olocausti e sacrifici, come di obbedire alla voce del Signore. Ecco, obbedire è meglio che sacrificare e ascoltare il grasso degli arieti. Un Samuele 15 e 22. Poiché Saulo non riuscì a seguire le istruzioni di Dio, fu sfollato come re israelita e Davide fu ordinato di prendere il suo posto. Lezione, obbedire a Dio è meglio del sacrificio e prestare attenzione al grasso degli arieti. Un Samuele 15 e 22. L'obbedienza non ha sostituti, e Dio richiede che noi dobbiamo obbedirgli a tutti i costi. Non possiamo razionalizzare una decisione o un'azione e aspettarci che Dio sia d'accordo con noi. Dobbiamo fare tutto ciò che ci chiede di fare, e dobbiamo farlo molto bene. Per quanto riguarda Dio, dobbiamo obbedire prima di lamentarci. Nel frattempo, Dio benedirà sicuramente i suoi figli obbedienti. Onorerà chiunque gli obbedisca. Dio può sospendere qualsiasi legge allo scopo di benedire e onorare chiunque scelga di temerlo e di obbedirgli. Pertanto, tutte le persone sono incoraggiate ad obbedire debitamente alle istruzioni di Dio, poiché non si pentiranno mai di aver agito. Preghiera, caro Dio, capisco che tu esigi che tutte le persone ti obbediscano fedelmente e che seguano le tue istruzioni. Pertanto, sono pronto a cedere la mia vita e ad obbedirti fino alla pienezza. Vi servirò e vi onorerò finché avrò vita. Colgo l'occasione per chiedervi una grazia in più che mi permetta di soddisfarvi in ogni momento. Vi prego di darmi la vostra grazia affinché io possa prosperare sulla terra e anche in cielo. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen. Grazie a tutti.